Prima calci e pugni, poi ha rotto una bottiglia di vetro e, usandola come un'arma da taglio, ha ferito due persone, una in modo grave. Violenta rissa intorno all'1.30 di questa notte a Como, in via Cantoni, a pochi passi da Villa Olmo, che ha coinvolto tre persone. Da quanto è stato possibile ricostruire, un uomo, per motivi che sono ancora da chiarire, avrebbe avvicinato il gruppo di amici, ne sarebbe nata una discussione che poi è degenerata. L'aggressore si sarebbe scagliato contro due giovani di origine pakistana di 23 e 30 anni, dapprima, come detto, con calci e pugni e poco dopo con la bottiglia rotta, poi sarebbe scappato, probabilmente a piedi. Sul posto sono arrivate tre ambulanze. I feriti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia. Il 23enne ha riportato i traumi più gravi, è stato operato per le ferite al collo, è ricoverato in rianimazione e la prognosi è riservata. Per il trentenne invece, ferite alla testa e al volto, oltre a diverse contusioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul violento episodio indagano i carabinieri di Como, che stanno cercando di chiarire i contorni della vicenda e stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per risalire all'aggressore.